Distribuita da Ropiga Italia, abbiamo una sezione particolare dedicata alla notica e siamo con Cristiano e Ramona che ci spiegheranno la storia di questa azienda nata proprio in questi giorni. Assolutamente sì, è una singolare produzione che abbiamo voluto presentare in questa mostra dove ci si distingue per gusto e raffinadezza. Tutto nasce da un'attenta ricerca di materiali, seguendo un discorso di praticità, dinamicità e colore. E poi abbiamo cercato di rappresentare questo mondo con questi prodotti che rispondono a delle domande tipo resistenza, tipo colore, tipo stile. Come potete vedere è tutto legato a un discorso marino, così come è stata presa un discorso podda, che è molto familiare. Questo tessuto è una ricerca appassionata che ha cercato di dare un discorso tantissimo, visivo. Abbiamo cercato un connubio tra praticità, un connubio tra resistenza, di colori, perché come vedete abbiamo cercato anche uno stile. E quindi è stata una sofferenza, ma penso che ci stanno dando grande soddisfazione tutte queste persone che passano e ci stanno dando un'attività. Come vedete poi abbiamo tante caratteristiche, ci caratterizziamo anche per il discorso di cuscineria, ci caratterizziamo per il discorso di moda, ci caratterizziamo anche per il discorso di scelte materiali, perché anche questo è un'attività. Come vedete, è molto pratico, è molto pratico. La polza mi diceva che se cade nelle pozzanghere non ha problemi. Ha una grandissima protezione, ci siamo divertiti. E la stoffa della muta di sovarto. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto un'evoluzione appunto di questo materiale che è molto conosciuto in questo ambito, che ho dato delle soluzioni divertite. Mi aspettiamo più di quanto prima e speriamo che tutti indossino i nostri prodotti. Grazie.